Pensieri, opinioni, modelli, ruoli che abbiamo in testa, tutto questo ragionamenti, tutto questo è la superficie che è in noi. E' la superficie in noi. Una psicologia che si occupa, che prende in considerazione solo la superficie che è in noi, secondo me è destinata a fallire o ad essere comunque necessariamente limitata. Può darci una piccola aggiustatina in questa superficie, a volte, ma si rimane sempre in questa superficie che è in noi. Allora, iniziare a prendere in considerazione che tutto ciò è solo la superficie in noi ed è questo che ci causa problemi. E' il riferirci continuamente ed esclusivamente a questa superficie, a questo aspetto superficiale, artificioso, artificiale, costruito, preso in prestito dall'esterno, preso in prestito dall'esterno, che causa problemi in noi. E' l'identificazione con questa superficie. Allora, iniziare a prendere in considerazione questo. Tutto ciò, i ragionamenti, i modelli che ho in testa, i ruoli che interpreto, è la superficie che è me. Non è la mia vera natura, non è chi sono realmente. Allora, oggi voglio offrirti un esercizio pratico, un esercizio pratico da fare anche quando si crede così tanto ai pensieri, per esempio. Ci riferiamo così tanto ai pensieri, quando siamo troppo presi dal nostro ruolo, da ciò che dobbiamo fare. Voglio, insomma, condividere con te un esercizio pratico, anche per discernere, allenare lo sguardo, a staccarci da questa superficie, che è noi, e familiarizzare invece con ciò che siamo realmente. Cosa siamo realmente? Siamo lo sguardo. Lo sguardo, la profondità, quindi non la superficie, non le intrespature del mare, ma la profondità, che è intaccata e che noi perdiamo di vista. È intaccata da questa superficie. Allora, oggi voglio condividere un esercizio pratico, molto semplice, per imparare a discernere e stazionare, familiarizzare con il vero che è noi, con la vera fonte del benessere, dell'autenticità, da dove sgorgano le qualità, la creatività, la voglia di fare, di esplorare. Allora, basta chiudere gli occhi, basta chiudere gli occhi e iniziare semplicemente a entrare in una dimensione senza avere atteggiamento di voler diventare qualcosa, ottenere qualcosa. Quella è ancora la superficie che è in noi, che vuole diventare, ottenere lo sforzo. Quella è ancora l'aspetto artificioso, superficiale, la superficie che è in noi. Allora, l'atteggiamento semplicemente è quello di essere, semplicemente essere fuori dal tempo. Non esiste nemmeno il presente. Noi siamo, noi siamo una dimensione dove non esiste nemmeno il presente. solo la sensazione di essere. Solo la sensazione di essere, non fare, proprio smettere di fare, essere. Senza volermi provare in qualcosa o in qualcuno, nel voler essere qualcosa o qualcuno, o nelle condizioni esterne o nei ragionamenti, solo essere. Noi siamo questa condizione di essere che è fuori dal tempo. Allora posso sentire anche il silenzio, che permea, che è la mia vera natura. E quindi allenare lo sguardo. Se ci sono dei pensieri disturbanti, visualizzate questi pensieri come se fossero a mezzo metro di distanza da voi. Trenta centimetri, mezzo metro di distanza da voi. Vedete, questi pensieri scorrere. E voi chi siete? Voi siete lo sguardo. Quando gli occhi sono chiusi, noi vediamo un nero, un buio, un vuoto. Allora, riponi l'attenzione in questo vuoto, in questo buio. Senza far nulla, accorgiti di questo buio. E accorgiti che è la condizione della mente vuota, ma un vuoto dove c'è una sensazione di gioia, di presenza, che ti riporta veramente all'essenza, al cuore. Rimani in questo buio. Vedete che è proprio una sensazione di presenza. Allora, visualizza i pensieri disturbanti, ciò che ti disturba nella tua vita, una situazione, un problema che hai, o dei pensieri che ti assillano. Visualizzali esternamente a te. Sono a una certa distanza. E tu riponi l'attenzione su questo sguardo che contempla, che osserva, che è intaccato. E lasci scorrere questi pensieri disturbanti, li lasci scorrere. Il tuo sguardo, tu sei lo sguardo che contempla. Lasci sfilare le immagini. Non servono lunghe meditazioni. Semplicemente avere questa consapevolezza. E ritagliarsi dai momenti in cui rimaniamo in questo spazio fuori dal tempo e in cui acquisiamo la consapevolezza che noi siamo lo sguardo. Allora puoi aprire gli occhi, ti sei staccato dai pensieri e durante il giorno prova a rimanere in questo sguardo che contempla, contempla le cose, renditi conto che tu sei lo sguardo, l'occhio immacolato che le contempla. E quando noi quindi impariamo a familiarizzare, a risvegliarci a questa condizione, chiamiamola così, che è in noi, siamo sempre nuovi. L'atteggiamento poi che subentra è che siamo sempre nuovi, siamo sempre freschi. Emerge una fonte di creatività. Non ci riferiamo, per forza, a quello che siamo stati ieri, a una linearità che ci ingabbia. Io sono questo, io sono quello, io non posso fare questo, io ho questo limite. Quella è ancora la superficie in noi. Allora scopriamo, siamo sempre nuovi, siamo sempre freschi e siamo senza liberi, senza limiti. Siamo liberi di agire, di esprimerci. Insomma, siamo sempre freschi, nuovi. Questa è la maniera più rapida per uscire dai disagi. Certamente si può lavorare con tante altre tecniche che personalmente utilizzo nei percorsi, nei percorsi di psicologia integrata. Ma la maniera più rapida è questa. È andare nell'essenza che è noi, staccarci dalla superficie, andare nell'essenza che è noi. Allora emergeranno potenzialità, inclinazioni, peculiarità che spazzeranno via il disagio. È una nuova consapevolezza e coscienza di noi stessi. Chi volesse approfondire queste tematiche, è un percorso, in tal senso, può contattarmi. Hai riferimenti che prova sulla pagina Facebook o Instagram. Nel frattempo ti invito a praticare, per come ti ho suggerito, qualsiasi cosa c'è, imparare ad allenare questo sguardo, ad avere la consapevolezza che tu sei questo sguardo, e lasciare scorrere la superficie che è in noi. E puoi farmi sapere come va. Al prossimo video. Al prossimo video.